L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione del Movimento 5 Stelle, firmata da Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, che prevede iniziative per la mappatura e la bonifica degli edifici in cui è presente l'amianto. Previsti i programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all'Eternit e un tavolo permanente con l'Osservatorio Nazionale Amianto. La mozione impegna dunque la Regione ad effettuare, in collaborazione con i comuni, un censimento dei siti in cui vi sia la presenza di manufatti in cemento amianto, a pubblicizzare tale censimento con azioni informative alla cittadinanza e a tutti i proprietari di manufatti in Eternit, a proporre accordi con le aziende locali autorizzate al fine di permettere lo smaltimento o la bonifica, a provvedere affinché i risultati del censimento siano dettagliatamente registrati, archiviati e resi disponibili, ad istituire idonei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto e loro familiari, a favorire un'applicazione uniforme delle norme in tema di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, in favore dei lavoratori dei diversi comparti, ad istituire un fondo regionale in favore delle vittime dell'amianto, in similitudine con il Fondo Nazionale Vittime Amianto, ad attivare un tavolo permanente con l'Osservatorio Nazionale Amianto alla fine di affrontare ancor più compiutamente tale materia.